Oh, salve, Catherine. Che piacere vederti. Non sapevo che saresti passata. Mi ha chiesto lei di venire qui. Davvero? Lei legge il dizionario? Oh, mi hai scoperto. Mi piace far sudare un po' anche il cervello. Prendi una sedia. Insomma, mi auguro che stia filando tutto liscio con l'acquisizione del pallino Joe. Per ora sì. C'è molto da fare. Forse è meglio che vada. Quello è un dipinto molto interessante. Oh, grazie. Sì, quello sono io che prendo il toro per le corna. È la mia filosofia negli affari. Una metafora. L'ho capita. Però è successo davvero. Comunque, qui siamo una tribù piuttosto affiatata. Ma c'è sempre posto per una nuova scuò. Quindi ti prego, in ogni caso, non mi considerare il tuo capo, eh? Oh, non ci penso. Sì, perché io non amo molto i rapporti formali. Io sono white, ecco, sono white. W-A-H-I-T-E. Beh, grazie, signor Goodman. Ma io ho un contratto con la banca. Voglio dire, mi hanno assegnato al suo conto tutto questo. Ma certo, sì. Tu lavori per la banca. La banca lavora per me. Quindi, e so fatto, io sono il tuo capo. Il punto è che mi piacerebbe vedere il tuo bel fisichetto da questa parte un po' di più. In fondo, non c'è motivo di farsi incatenare dalle restrizioni delle relazioni capodipendenti. A meno che, naturalmente, a te non piaccia questo genere di cose. Nel qual caso ho un paio di manette di là. Sto scherzando. Però, se vuoi, ce l'ho. Io faccio il mio lavoro, signor Goodman. Anzi, in effetti, preferisco lavorare lì. Su, serio? A te piacciono quei mostri laggiù di Sfigalandi, eh? Mostri non sono mostri, sono persone come lei e come me. Persone pazzesco! Persone come lei, come me! Oh, mamma! Ecco cosa mi piace di te, Kate, che hai personalità. Oh, che goduria. Una vera sfacciataggine che trovo estremamente attraente. Dovremmo scopare. Che cosa? Scappare. Ho detto che dovremmo scappare qualche volta a uscire, andare fuori a divertirci. Ti senti bene? Sì, sto bene. Ho avuto un piccolo rigurgito in bocca. Già, lo sai che in certe culture mangiano solo il vomito? Io non l'ho mai visto, ma l'ho letto su un libro. Io non l'ho mai visto, ma l'ho mai visto.